Ultimo posto in classifica dopo quattro turni con un solo punto, tre sconfitte e nessuna vittoria all'attivo, con sole due reti fatte e sette subite. Numeri incontrovertibili che testimoniano le molteplici difficoltà del Perugia in questo incipit stagionale di Serie B. Nessun ribaltone però all'orizzonte e l'ultimo confronto tra società, staff e squadra è stato proprio ideutico per auspicare un immediato cambio di rotta, come conferma il direttore sportivo biancorosso Marco Giannitti. Siamo stati tutto il giorno con il mister Castori e il presidente Santopatra insieme nel pomeriggio, gli abbiamo ribadito quello che cosa serve al mister per cambiare inerzia in questo inizio di campionato e soprattutto anche il messaggio ai ragazzi che la società in questo momento sta soffrendo come è loro. Siamo tutti consapevoli che da oggi bisogna cambiare passo e soprattutto ne è consapevole anche il mister dopo la chiacchierata di ieri che deve trovare al più presto, io lo chiamo il vestito della squadra. Se in questo momento ancora ci sono delle problematiche e poi delle problematiche possono anche venire da lontano dove ci sono anche i giocatori non in condizione ancora in questo momento con il mercato aperto due mesi. Non voglio che sia più un alibi perché io ho sperato tanto che questo mercato finiva, noi la rosa l'abbiamo completata al 90% molto prima che iniziassi il campionato, però in questo momento dobbiamo guardare più a risultato e magari la crescita viene anche con l'entusiasmo e con il risultato. Che magari vincere una partita e continua il percorso di crescita ma in questo momento ci stanno mancando anche i risultati che ti fa lavorare con tranquillità. È normale che la difficoltà c'è e come ripeto Castori con la sua esperienza e la sua abbenegazione deve trovare il giusto rimedio a queste situazioni. E se soprattutto tra tifosi ed appassionati è già iniziato il countdown verso il derby del Liberati con la Ternana, fissato per domenica 18 settembre alle 15.15, energie fisiche e mentali del Perugia guardano unicamente al prossimo impegno contro l'Ascoli programmato per sabato 10 alle 16.15 al Curi. C'è una partita importante dopo Ascoli, però quella la sappiamo, la sappiamo bene quando ci tengono i tifosi e quando sono, però in questo momento la mia testa è focalizzata soprattutto nella partita di Ascoli e soprattutto questa settimana. Di cercare di capire se questa squadra, questa settimana, abbia in testa, e penso che ce l'abbia, soprattutto un lavoro specifico per cercare di trovare questa quadra che fino adesso non c'è stata. Noi siamo il Perugia e il Perugia lo dobbiamo dimostrare in campo. Per due anni ci è riuscito bene, questo è il primo momento della mia gestione un po' critico, ma vi ripeto, sono abituato a viverla giornalmente e tirare la linea a maggio. Però in questo momento noi siamo un corpo unico che dobbiamo rispondere alla città che ci è stata sempre vicina.